Secondo appuntamento presso il Centro Culturale Zanussi di Pordenone con i seminari storico-musicali che accompagnano il 24esimo Festival di Musica Sacra. Il docente del Conservatorio di Venezia Marco Gemmani ha presentato la figura di Andrea Gabrielli, protagonista della scena musicale Sacra del Cinquecento a Venezia, in Bohemia e in Baviera. La musica sacra nel 1500 diventa importante improvvisamente, verso la metà del Cinquecento, perché fondamentalmente succede che Lutero con la riforma protestante aveva in qualche modo messo in scena tutta una serie di meccanismi che avevano in qualche modo coinvolto moltissimo la gente, facevano molta concorrenza alla Chiesa Cattolica, la quale nel frattempo si era un po' seduta sugli allori. Di risposta al Consiglio di Trento la Chiesa decise di investire soldi, denaro e tante energie nella musica sacra e quindi nascono un sacco di cappelle, nascono molti centri di ascolto, soprattutto le chiese diventano momenti in cui si fa musica continuamente. Andrea Gabrielli è un compositore che fa una scalata molto umilmente, ma arriva ai vertici della musica veneziana in maniera abbastanza lenta e soprattutto senza grossi riconoscimenti mentre era vivo. Invece, mentre rumora nel 1585, sul prodotto del 1585 diventa il compositore più importante del momento e fino a che non arriva a Monteverides sarà il musicista più eseguito a Venezia, per tutta la fine del 1500 e anche per tutti i 1600. Qual è la caratteristica principale della sua musica? La caratteristica è una sola, che poi diventerà il tema principale della musica del 600, che è quello di trasferire dalla musica da chiesa così eratica, ferma, trascendentale, a una musica più sensibile, più psicologica, più umana, più vicina alla sensibilità e ai sensi della gente. Questa passaggio avviene in maniera molto graduale nel 500 e Andrea Gabrielli è il primo di questi compositori da chiesa che introduce questo nuovo modo di fare musica, che poi esploderà nel 600 con la seconda pratica di Claudio Monteverdi e quindi sarà un po' il primo musicista che in qualche modo sonda questo mondo, questo mondo di affetti, viene detto poi di affetti, comunque di coinvolgimento psicologico dell'ascoltatore e del compositore e ovviamente anche dell'esecutore. Gesù Cristo Gesù Cristo Grazie a tutti.